There's no place I'd rather be 1, 4, 3, 2, 1 E a tutti ragazzi, ciao a tutti Oggi ragazzi siamo qui per fare un video mai portato in Italia fino ad ora Oggi ragazzi siamo qui per fare la reaction alla parodia di Occidentalist Karma di 5J haters in Italia Io fino ad adesso ragazzi non ho visto neanche una reaction su questo video quindi credo di essere la prima in Italia a portare questo format Per questo video ragazzi mi raccomando raggiungiamo almeno i 90.000 like poi seguitemi su Instagram su Facebook e niente iniziamo questa reaction ah e vi ricordo che questo video io non l'ho mai visto fino ad ora, lo so che hanno di tendenze che c'ha 3 milioni di visual e tutto quello che vi pare però io ancora non l'ho visto quindi niente ragazzi cominciamo immediatamente questo video no vabbè bella moglietta in grande no raga è stupenda secondo che iniziata da 10 secondi è già fantastica no vabbè no vabbè con il tuo computer su internet mettiti come no ho trovato sto computer no vabbè regà è il top è il top è il top no vabbè oh è uguale a Gabbani regà per me è il fratello eh cioè secondo me pure il fratello vabbè no 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 regà è in grande è in grande è in grande sì 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 è fantastico ah ragazzi a proposito non l'ho mai visto questo video un po' trota se no regà mi c'entro nel video dopo me tolgo una monetizzazione non regà il top è 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 meglio questo ne quella dei Gabbani mai sentita fino ad ora però regà veramente è epica è epica non so come ho fatto a non vederla fino ad adesso questo regà diventerà il tormentone di tutta Italia mi sa che già lo è vabbè però regà diventerà il tormentone perché veramente è fantastica è l'epicità in persona cioè guarda che riprese guarda 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 vabbè vabbè ma sto ragazzo è ingenio ma chi è i rovazzi ma chi è chi è chi è cioè basita e infatti ecco questa canzone è arrivata a tutti quanti gli haters a quelli che ci odiano a quelli che ci danno del cancro potrota no no mi tolgo l'ammonizzazione non me va io faccio sti video per guadagnare che pensi regà talmente mi piace che già mi porto il testo a memoria cioè veramente è fantastica sono i tessi in Italia ogni tanto per cambiare un po' diamo dei cancri ai mates no aperto aperto pure i mates no vabbè questo ragazzo ha capito tutto ma fatemi il contatto di mates no vabbè vabbè fantastico 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 ma no veramente guarda pre partita la cuffietta perché talmente è bella che mi portano pure le cuffiette oh mamma mia è fantastica fantastica no no raga dicevo comunque che come canzone è molto carina si molto 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 carina no vabbè finale top fantastico bravo 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 ecco vedi mamma mia raga comunque ragazzi spero che questa reaction vi sia piaciuta guardate posso dire che questa canzone a mio parere è molto molto carina quindi mi raccomando lasciate tantissimi like a questo video aggiungiamo i 140 mila like per un prossimo video reaction così poi ragazzi stalkeratevi su tutti quanti i social network in questo sotto alla descrizione sono state iscritti 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 e niente ragazzi ciao 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 ragazzi ci vediamo alla prossima reaction verissima ciao 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 ciao